If we are in England, we start. If we are in the US, we start. Un detox test. Ciao amici, oggi facciamo un test, un detox test. E come si fa? È facile, rispondete alle domande che trovate nel sondaggio, nella piccola i qui in alto. Ci vuole solo un attimo, sono tre domande velocissime. Domanda 1. Vi sentite mai gonfi, appesantiti, senza sprint? Domanda 2. Vi capita di non riuscire a concentrarvi e di avere come una cappa che pesa sulla testa? Domanda 3. Vi capita mai di svegliarvi con la bocca amara, di avere dei mal di testa inspiegabili o di avere una sensazione di malessere senza apparente motivo? Io ho risposto di sì a tutte, cosa ho vinto? Se avete risposto sì anche a una sola di queste domande, vuol dire che avete bisogno di fare un bel detox. Ma che delusione! Ma non vinto niente allora! Ma certo che hai vinto! Hai vinto il mio segreto, quello con cui faccio detox ogni giorno. Funziona meglio della dieta detox e potrai depurarti velocemente anche tu. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il mio segreto è iniziare a fare detox fin dal mattino, così resto in forma e depurata tutto il giorno. Ah bene grazie, allora il video è finito giusto? Ma come è finito? Non vi ho ancora detto come faccio? E come potete fare anche voi senza essere esperti di integratori con l'aiuto dei prodotti Isvery che è anche sponsor di questo video. E alla fine del video vi darò il mio codice sconto per risparmiare il 10% su tutti i prodotti. Sono buonissimo! Io adoro i prodotti Isvery perché sono fatti solo con ingredienti sani, genuini, tutti biologici e poi sono crudisti, cioè lavorati al di sotto dei 47 gradi così tutti i nutrienti mantengono le loro proprietà intatte. Allora per il mio segreto detox quotidiano uso questi due prodotti. La colazione di Buddha a gusto ananas erba di grano e la chlorella. Ah di questa chlorella me ne ha parlato anche una mia amica, ma funziona? Certo che funziona, a patto che sia un prodotto di qualità ovviamente. Per chi non la conosce la chlorella è un'alga ricchissima di vitamine, minerali, enzimi, proteine e acidi grassi. È un concentrato potentissimo di energia e potere detox. La chlorella Isvery è biologica e di origine controllata. Lavorata con cura per renderla assimilabile al 100% molto più rispetto ad altri prodotti più grezzi e con meno benefici. Bisogna fare sempre attenzione alla lavorazione, è quello che fa la differenza. La trovate già pronta in polvere in questa comoda busta? Io aggiungo alla macedonia, la metto negli smoothie o nei frullati o negli estratti di frutta e verdura. Vi assicuro che la chlorella dà subito una sperzata di energia e poi aiuta a depurare l'intestino, riduce il colesterolo, porta via i metalli pesanti, ha un effetto chelante, accelera la rigenerazione cellulare e contiene anche un preziosissimo elemento, la vitamina B12, consigliatissima per vegani e anche vegetariani e anche tutti. Tutti questi benefici sono supportati da studi scientifici, divertitevi a leggerne qualcuno, li trovate in descrizione. E la colazione detox di cui parlavi? Eccola qui, si chiama il risveglio di Buddha e ho fatto vedere come si prepara in questo video. Prima di vedere come fare iscrivetevi al canale, attivate la campanella con tutte le notifiche, altrimenti YouTube non vi avvisa quando esce un mio nuovo video che è ogni giorno e aiutatemi a sviluppare il progetto di questo canale con gli abbonamenti. Info in descrizione. Per fare detox io uso il sapore ananas ed erba di grano perché è drenante, pieno di antiossidanti e di enzimi. L'ananas contiene bromelina, una sostanza nota per le sue proprietà detox, sazianti e dimagranti. L'erba di grano da dove viene non è l'erba cresciuta ma sono i piccoli germogli di questo cereale che non contengono glutine come invece il chicco adulto. I germogli sono potentissimi e ne ho spiegato i benefici in questo video. Contengono gli importantissimi enzimi e poi acidi grassi, vitamine, minerali e hanno il potere di depurare gli organi interni dai pesticidi e dalle tossine. Questa colazione è perfetta per chi vuole fare un bel detox intensivo e poi mantenersi depurato. La chlorella poi potete usarla anche in diversi momenti della giornata per esempio come spuntino o prima di pranzo e prima di cena. Ma per quanto devo farlo? Il segreto del detox è mantenerlo costante perché siamo sempre bombardati dalle tossine e dobbiamo cercare di tenerci puliti il più possibile ogni giorno. Io uso la chlorella e la colazione del Buddha per farlo più in fretta rispetto alle comuni diete detox, senza complicazioni, senza stress e con tanto gusto e soddisfazione. Se volete farlo anche voi potete farlo usando il mio codice sconto SIMO10, maiuscolo SIMO10, comunque vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando condividete lo sconto, risparmiare insieme rafforza l'amicizia e fa bene alla salute. Ora condividete questo video e se usate i prodotti fateli vedere, fateli provare anche i vostri amici, gli piaceranno tantissimo. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Le drenanti è un derivato del cerm... sono o è? con alimenti... con ingredienti... altrimenti...